aiutatemi altre due carte hanno rapita compagniamoli un attimo mi hanno no aiutatemi mi hanno rapita andiamo dentro a quella porta io mi metto di qua vieni qua 3 2 1 mamma mamma sono nessuno dove ci troviamo? esattamente allora oh mio dio dove siamo? no 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 ma che posto è questo? scusami auri secondo te mamma si trova qui mamma lodo ma siamo sicuri che mamma si trovi qui mamma mamma non è che forse il portale l'orecchino questo è un buon indizio un attimo dammi un attimo quindi questo è un indizio mamma è qua per terra no 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 lodo vuol dire che mamma è qui nei paraggi no lodo non vedo nulla nada nada mamma non è qua mamma 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 ma io mamma dai lodo la troveremo mamma tranquilla mamma mamma lodo è inutile che la chiami mamma non risponde allora ho visto l'uomo allora proviamo a vedere lì dove vorresti andare scusami lodo là sopra andiamo si ecco sì forse qui no ma forse è morto Aurora forse mia mamma forse la nostra mamma è morta mamma è morto no 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 ma secondo te è luto cosa significa questa strada rotta ha tipo la sagoma di un uomo gli occhi di nero si ha un bastone una spada un ascio qualcosa questa è critta come pensavo andiamo di qua sempre dritto ho un'idea aspetta devo salire ecco qui non è forse qui l'uomo ragazzi non è che a salire non c'è non c'è trovare mamma allora io me lo ricordo questo posto mister b ci ha rubato le uova qua anch'io me lo ricordo questo è il luogo in cui mister b ci ha nascoste le uova di pasqua vieni con me dammi la mano ah no non è lì il posto no non è che è nascosto lì mamma forse è morta dalle macchine ma va luto mamma mia ma è sempre negativo un po' di un po' di positività vieni su vieni non c'è proprio niente mamma non c'è luto mamma non c'è è inutile che cerchiamo il portale ci ha portato in un posto in cui mamma non c'è no lei è troppo piccolo non è possibile però però sta andando troppo su vabbè luto mamma non c'è luto io mi arrendo basta mamma non c'è tu non ti arrendi mai lo so luto ma stiamo cercando da più di mezz'ora mamma io non me ne vado finché non trovo mamma 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 dove sta facendo amore mio come avete fatto trovarmi vittalina dobbiamo scappare luto non c'è tempo ascoltami chi ti arrendi non lo so adesso non c'è tempo dobbiamo andare presto 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 ok andiamo dove andiamo dobbiamo scappare prima che ci prendi muoviti luto presto aspetta fermi chi hai mi fa male chi hai che cos'hai che cos'hai ragazze apri ho una ferita che cos'hai no no mamma che cos'è come dobbiamo fare avete qualcosa per medicare mamma tranquilla sono un cerotto amore sto per svenire amore un cerotto dove ho preso il cerotto mamma mamma che modo si sta sanguinando che impressione muoviti luto metti luto dove hai trovato questo cerotto in cacca bene adesso scappiamo ragazze dobbiamo ma dove dobbiamo trovare un portale che ci faccia ritornare a casa qui 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 questa è la sorta che aveva visto prima dobbiamo andare lì forza via ragazzi grazie amore mamma amore ragazze grazie mamma mamma scusami mamma come avete fatto a trovarvi mamma chi è stata rapida esatto ragazze non lo so non lo so perché una persona è venuta mi ha vendato e mi ha portato via non so che faccia abbia questi portali forse ho visto una persona blu tutta blu mister boo chi è mister boo è il nostro è il nostro amico esatto è il nostro amico che è un po' burlone ragazzi scusate adesso mi dovete dire una cosa voi avete mai aperto questa porta no mai mamma assolutamente no adesso voi mi dovete dire chi è questo mister boo e come mai questa porta si è aperta eh no perché mi serve un nostro amico un po' burlone no no mister boo è il nostro amichetto io vi ho detto milioni di volte che al piano di sopra non ci dovete venire e che soprattutto queste porte non le dovete mai aprire ma guardate l'apertà allora ma perché se l'aprite anche solo una volta è la fine voi l'avete mai aperte assolutamente no ma ma non è vero ci sono veramente cavolate non è vero ma 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 secondo te noi veniamo su e apriamo la porta che non sappiamo neanche che cosa c'è dietro a questa porta mi raccomando ragazzi non lo fate mai più avete visto quello che mi è successo può essere molto pericoloso non aprite mai più quelle porte mamma ma tu hai lasciato degli indizi il telefono gli orecchini si ragazzi ho lasciato degli indizi con la speranza che voi ve ne accorgeste io ancora sto tremando siete state brave però come avete fatto a trovarmi a salvare ma ma abbiamo dovuto anche fare una cosa impossibile ho dovuto attraversare dei sassi non me la c'è stata ragazzi grazie piccoline di mamma siete state bellissime grazie che mi avete salvato vieni qua amore sassi con il fiume con le radici vieni qua amore abbracciami va bene ragazzi pericolo scampato pericolo scampato mi raccomando che non si ripeta mai più questa cosa non aprite mai più queste porte ok io adesso vado e vado a raccontare tutto a papà perché anche papà deve sapere tutto perché deve essere preparato ad ogni eventualità vado ciao mamma ciao ciao vabbè ragazzi mi sono paventato tantissimo in su e qui vedete attivate la campanellina e lasciate tantissimi posizioni in su fatelo eh ciao ciao questa porta è chiusa ok io vado a controllare le gambe le gambe le gambe au il papà me la vuole portare io vado a dormire papà